Perché siamo sorelle e non semplici conchiglie posate una accanto all'altra? Perché non siamo alberi o semplici pietre? Perché dobbiamo parlarci se non riusciamo nemmeno ad ascoltarci? Perché dobbiamo vederci se non riusciamo nemmeno a immaginarci? Canti o preghi, Lia, voglio pregare con te che venga il temporale e che la grandire cada sulla città Perché correvi verso l'orizzonte invece di guardarlo e immaginare ogni giorno un mondo nuovo? Non voglio più piangere i miei morti, non voglio più piangere i miei morti Fermati, io non mi fermo, non mi muovo, sono salita su questo terrazzo con l'ultimo ascensore È cemento, non letame Non si odiano più, hanno smesso di odiarsi Guarda, guarda come sono gentile